Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre cerco di portarvi prodotti molto originali e qui abbiamo una torcia della Armitech, la Wizard C2 Pro Max. Una torcia da mano che però può essere anche una torcia frontale con delle caratteristiche veramente peculiari. Quindi se vi interessa rimanete con me e ne parliamo insieme. Andiamo! Ecco qua la confezione, ora andiamo a fare l'unboxing. E andiamo a vedere cosa contiene al suo interno. Allora, un manuale di istruzioni che però non c'è la lingua italiana. Vabbè, comunque poco male. Abbiamo queste cinghie per modalità frontale, quindi qua possiamo agganciare la nostra torcia. Poi abbiamo la clip con o-ring di riserva, di ricambio. E clip per la cintura. Abbiamo il caricatore magnetico, come quella della O-Lite, per capirci. Anche questo semplicissimo, si attacca direttamente alla torcia e va ricaricata con un classico caricatore da cellulare. Poi abbiamo anche un riduttore per avere la possibilità di mettere le pile 18650. Quindi pile differenti e questo è un riduttore in pratica. Anche questo è molto interessante. Andiamo ad aprire la torcia. Ecco anche la sua piccola custodia. Viene incluso con la torcia anche questa piccola pouch. Ed eccola qua la torcia. Voilà. Ok? Molto resistente. In alluminio. Il caricatore si attacca molto bene. Non ha nessun problema. Vedete? Precisione al massimo. Parliamo un po' delle dimensioni e del peso. Ok? Pesa con la batteria inclusa. 150 grammi. E la sua dimensione è 31 mm di spessore nella parte più larga. E 12,2 cm per la sua lunghezza. È in alluminio con una verniciatura antiscivolo. Quindi ha un buon grip anche da bagnata. Si sente. Sembra una specie di gomma alla fine. In più è resistente anche alle basse e alle alte temperature. Dichiara che può lavorare fino a meno 25 gradi e anche 40 gradi celsius. Monta una bella batteria da 5000 mAh. La 21700. Agli ioni di litio. E però con il suo riduttore gli potete montare anche le batterie 18650. Ricarica completa in circa 5 ore e mezzo. Ha due o-ring di protezione. Neanche uno solo ma due addirittura. E nel retro abbiamo un forte magnete che possiamo attaccarla in qualsiasi parte o parete metallica. Tipo una macchina. Questo ci aiuta tantissimo quando dobbiamo fare i lavori e abbiamo la possibilità di attaccarla che ne so vicino alla carrozzeria della macchina tipo per cambiare la ruota. Ci torna veramente comodo anche per vedere il vano motore. In più ha un alto grado di impermeabilità quindi può stare in immersione anche fino a 10 metri. E resiste alle cadute ad un'altezza di 10 metri ragazzi come dichiara il sito. Quindi una torcia veramente ultra resistente. Ha un sistema di blocco e sblocco direttamente sul tappo. Quindi basterà svitarla leggermente che la torcia non funziona più. Nel momento in cui la avvitiamo la torcia torna a funzionare. Ok? Per caricarla ci basta svitarla appena appena giusto un quarto di giro. E poi possiamo attaccare questa alla corrente. Una clip bella resistente che possiamo agganciarla in due punti. O qui o qui. La parte superiore o inferiore. E anche girarla al contrario. Quindi possiamo metterla come ci pare. Ok? Facciamo un esempio. Vogliamo metterla così. Basta pressare forte. Ecco qua. E si aggancia in modo veramente saldo ragazzi. Non cade più. Vedete? E possiamo mettere alla cintura dei pantaloni. Oppure uno spallaccio dello zaino. Insomma dove vogliamo. E' molto resistente. Ecco qua. Ah dimenticavo di dirvi che ha una garanzia di 10 anni ragazzi. Ok? Ora. Se vogliamo utilizzarla come torcia frontale ci basterà attaccarla in questo modo. Ok? E con questo o-ring girare e agganciarla qui. E si aggancia tutto in modo molto saldo. Come potete vedere. Ok? E abbiamo così la nostra torcia frontale. Il led è un led molto potente che possiamo sfruttare in varie modalità che vanno da 45 lumen fino a 4000. E arriva ad una distanza di 140 metri. Qui abbiamo il pulsante di accensione che ci basterà premerlo per accedere a tutte le funzioni. Ma secondo me la parte più interessante di questa torcia sono le lenti. Ok? La lente che usa. Sono lenti Tear Lens si chiamano. Ok? Ora ve li faccio vedere da vicino. E' una specie di vetro a nido d'ape. Come potete vedere. E' come se avesse tante piccole lenti incorporate tutti insieme. Questo dà il vantaggio di aprire il fascio di luce veramente tanto. Tipo a 150 gradi. E' avere una visuale intorno a noi molto molto ampia. Per questo mi piace tantissimo. Perché non è come le solite torce che fanno un fascio potentissimo. Però lunghissimo che arriva a tanta distanza. Però è molto ristretto. Mentre questo è al contrario. Non arriva lontanissimo. Ma è molto aperto. E ci dà la possibilità di fare quelle attività come escursioni, campi eccetera. E di vedere in modo molto ampio tutto intorno a noi. E va benissimo anche per andare in bicicletta. Perché ci dà la possibilità di spaziare veramente tantissimo. E vedere la strada in modo veramente buono. L'elastico per la testa è di buona fattura. Molto resistente. Completamente regolabile da questi regolatori qui. Quindi sia sopra che lateralmente. E la torcia anche si può regolare come vogliamo. Ok? Possiamo girarla come vogliamo. Ha sette modalità se non erro di illuminazione. E sul sito la possiamo scegliere con il led. La possiamo prendere con il led a luce calda o a luce fredda. Ok? Ora andiamola a provare con il buio. E vediamo come si comporta. Bene. Allora amici. Così è la prima modalità. Quindi a bassissimi lumi. E si può leggere perfettamente comunque. E non dà problemi alla vista. Aumentiamo di un livello. Quindi passiamo al secondo livello. E già si illumina di più. Ok? Come potete vedere. E aumentiamo al terzo il livello. Oh, già qua fa una bella luce. Ok? Vedete? Guardate che riesco a illuminare tranquillamente intorno a me. E aumentiamo ancora di uno. E qua fa una bella luce in effetti. Ragazzi. Allora, io vi voglio far notare che ampio è questo fascio. Ok? Io riesco a illuminare proprio tutto davanti a me. Quindi a 150 gradi sicuramente. Ok? Aumentiamo ancora. Ecco qua. Guardate che bella luce. Non è molto profonda come fascio. Però ha un'apertura veramente notevole. Guardate quanto riesco a illuminare se punto per terra. Guardate che fascio enorme che fa. Quindi intorno a me io riesco a vedere perfettamente tutto quanto. Ok? Poi andiamo con la modalità turbo. Guardate che potenza. Si illumina veramente bene. Tanta roba. Sì. È molto molto potente. E poi abbiamo anche la funzione strobo. Ok? Ora ve la mostro. Ecco qua. Abbiamo funzione strobo lenta. Ok? Oppure funzione strobo veloce. Vedete? Ricidiale. Poi il pulsante quando andiamo ad accendere la torcia fa un lampeggio. Guardate. L'accendiamo. Guardate. Ora farà un lampeggio. Ecco qua. Avete visto? Ora quando questo lampeggio è verde. Ok? Vuol dire che la carica della batteria sta tra il 25 e il 100%. Se invece è arancione vuol dire che sta sotto il 25%. Se invece è rosso vuol dire che sta sotto il 10% e quindi va ricaricato. Bene amici. Di conclusioni finali. Devo dire che è un mesetto che la sto provando e mi ci trovo veramente bene. Ma quello che mi piace di più è proprio la possibilità di avere questo fascio molto largo che mi permette di vedere con una visione molto più ampia. Quindi anche quando facciamo le nostre escursioni o il nostro campo avere la possibilità di un fascio molto largo ci permette di vedere tutto quello che abbiamo intorno a noi senza spostare la testa e cercare in un punto preciso perché abbiamo il fascio molto stretto ma anche semplicemente tenendo la testa ferma abbiamo un'illuminazione veramente ampia e possiamo vedere tutto quello che sta intorno a noi. E questa è una cosa che mi piace veramente molto. Per il resto è ok sotto tutti gli altri aspetti anche come durata, funzionalità eccetera. Devo dire che è una torcia veramente completa. Io comunque vi lascio tutti i link in descrizione se volete saperne di più. Io ringrazio la ditta Armitech che mi ha dato la possibilità di provare questo splendido prodotto. Io vi ringrazio per la visione, spero che vi possa essere di aiuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!